Allora oggi raccontiamo la storia di una piccola grande rinascita, lo scorso anno la polisportiva dilettantistica Montespaccato viene sequestrata al clan Gambacurta, ne hanno scritto tutti anche noi, finisce in amministrazione giudiziaria. Noi oggi racconteremo la rinascita di questa squadra con il presidente di asilo Savoia che è Massimiliano Monnanni, tanto benvenuto e con una delegazione del Montespaccato Savoia. Allora perché la storia di una rinascita? Cosa succede l'anno scorso? Il nostro progetto Talento e Tenacia parte dal 2016 e punta appunto alla formazione e inserimento lavorativo di giovani atleti che tramite il calcio e lo sport trovano anche un'alternativa alla carriera calcistica che riguarda solo una piccola minoranza di ragazzi. A giugno dell'anno scorso il Tribunale di Roma, a seguito del sequestro dell'operazione Ampa che ha portato a 59 arresti per associazione di stampo mafioso con usura, reati quali usura e traffico internazionale stupefacenti, ha appunto chiesto a noi come asilo Savoia di garantire la continuità gestionale di questa importante struttura che è situata in Roma Nord, nella ex Borgata Fogaccia, oggi Montespaccato, che era l'unica, è l'unica struttura sportiva che si rivolge a circa 500 tra bambini e ragazzi. Questa struttura sostanzialmente avrebbe chiuso perché non c'erano più i proventi del riciclaggio sostanzialmente e quindi c'è stato chiesto di inglobarla nel nostro programma che è quello che abbiamo fatto. Abbiamo trovato una situazione di totale disgregazione ovviamente perché va considerato che il capitano della squadra era uno era il nipote del capo di questo sodalizio criminoso quindi la squadra si era sostanzialmente... In inizio ci sono state anche difficoltà a rimettere in piedi... Sì, molte difficoltà perché noi siamo arrivati il 13 luglio, abbiamo dovuto in 5 giorni fare l'iscrizione per il quale ovviamente non c'erano più soldi quindi siamo intervenuti noi e abbiamo sostanzialmente chiesto a tutti i ragazzi che facevano parte già di questo programma se intendevano lanciarsi in questa nuova sfida e devo dire che tutti quanti hanno dato una risposta immediata di scelta di Montespaccato. Partiamo Kevin, giusto? Cosa significa per te giocare con questa squadra che non è solo una squadra di calcio ma ha con sé un valore importante per gli altri anche? Sì, intanto buongiorno, grazie dell'invito. Giocare per questa maglia ha un significato speciale non solo perché sono quattro anni che con il presidente sono all'interno del progetto e poi è un onore perché comunque in petto ho lo stemma Sabaudo quindi per me è una cosa molto molto importante e poi rappresentare un quartiere importante come Montespaccato dà orgoglio a me e tutti i miei compagni di squadra, quello sicuramente. C'è un collegamento importante anche, i ragazzi lavorano alcuni di loro nella palestra della legalità di Ostia, quindi l'invito non è casuale. Chi di voi lavora, tutti quanti lavorate nella palestra, qual è l'importanza di un lavoro in quella palestra che anche questo lo ricordiamo è stata confiscata dalla criminalità organizzata? Non so chi vuole parlare. Forse Davide? Buongiorno a tutti, sicuramente è un impegno importante perché quella è una zona particolare di Ostia dove diciamo come per Montespaccato regnava insomma la criminalità quindi le attività sportive si facevano ma si facevano insomma nella palestra degli Spada. Loro comunque offrivano questo servizio e quindi la gente tra virgolette era contenta della loro presenza. Quindi una volta eliminata insomma quella parte di criminalità c'era bisogno dell'intervento di qualcun altro perché altrimenti non si poteva più fare sport. Fortunatamente anche in questo caso è intervenuto l'asilo Savoia, intervenuto dalla regione Lazio e insomma abbiamo aperto questa palestra che ci sta dando tante soddisfazioni. La palestra sono 1200 metri quadrati e tra l'altro c'è una notizia importante. Sì, abbiamo reso operative altri 600 metri quadrati al piano terra e quindi sarà operativa anche la sezione arti marziali. Mi fa piacere dire che quando abbiamo aperto la palestra è stata inaugurata il 26 febbraio ed è stata resa operativa dallo stesso giorno abbiamo superato i 1300 abbonati. Di questi ben 340 sono completamente gratuiti. Quindi la missione che noi realizziamo insieme al Tribunale di Roma e alla regione Lazio è quella di dare un segnale che una struttura bella sia a livello di attrezzature moderna, di logistica e anche di capacità professionale dei ragazzi e delle ragazze che lavorano in questa palestra è a disposizione di tutti a prescindere dalle condizioni economiche. Quindi chi si trova in una situazione di disagio economico sociale la può frequentare in maniera completamente gratuito utilizzando gli stessi servizi e le stesse attività che sono previste a pagamento per chi può permetterci C'è una caratteristica del Monte Spaccato Savoia che voi siete molto forti sui social, realizzate dei prodotti che stanno molto avanti. C'è un giocatore che si occupa anche dei social se non mi parla. Beh lui è diciamo che Andrea ha fatto un corso sempre nell'ambito di programma Talente e Tenacia, Andrea Dabascio come social media manager e quindi ha affiancato diciamo me che seguo direttamente a titolo di volontariato ovviamente la parte social e dando poi quella freschezza e quella diciamo quell'approccio più giovanile che io ovviamente non ho perché sono un po' più stazzonato. Volevo chiedere a lui qual è diciamo qual è la cosa più bella nei social io ho letto molti commenti positivi insomma ho sbirciato sui vostri social diciamo che è anche abbastanza facile perché comunque le attività che voi fate sono attività comunque positive quindi tu qual è la cosa più bella che riscontri diciamo quando ti occupi dei social del Monte Spaccato Savoia? Vabbè comunque stare a contatto stare a contatto con tutte queste iniziative mi fa sentire partecipe di tutto quello che facciamo e dare la mia competenza in questo campo mi rende orgoglioso insomma. Ieri per esempio Andrea insieme a Bruno sono stati perché noi ogni mese facciamo un'iniziativa comunitaria di volontariato e proprio ieri Andrea insieme a Bruno sono stati a fare un'iniziativa in favore di un'organizzazione che si occupa dell'integrazione di ragazzi e bambini autistici quindi queste attività poi sono poi il sale C'è anche un'altra cosa importante che voi siete stati ricevuti dal Presidente della Repubblica cosa ha significato per voi quell'incontro? Non so se vuoi parlare tu Buongiorno a tutti, è stato molto importante, impattante, veramente non ci aspettavamo mai credo nessuno di noi di essere accanto al Capo dello Stato ma in più mi sa che era la prima volta che ricevevo un evento inedito che tutto è una mostra proprio di quello che significa Trento e Tenacia per il territorio per Montespagato, per Ostia, per il Lazio e anche prendendo una importanza nazionale, è stato veramente per noi un piacere, una cosa molto forte Tra l'altro voi non siete solo calciatori, nel senso che voi studiate, tu studi per diventare fisioterapista e cosa è per te? Tu la operi nella palestra di Ostia, giusto? Sì, buongiorno, io operavo fino a quest'estate poi cause studio, ho dovuto comunque abbandonare per il momento il lavoro di sala Cosa rappresenta per te questa squadra di calcio? Questa squadra per me ha rappresentato e rappresenta l'opportunità di avere un piano B nella vita del ragazzo Stereotipo di oggi che gioca a pallone, quindi che magari si ritaglia il 90% del proprio tempo per giocare a pallone e non segue nessun'altra strada Io li ho incontrati in un momento dove la mia carriera aveva vari infortuni, cose varie non aveva più l'ambizione di diventare comunque un giocatore di categorie importanti e con loro abbiamo affrontato, con il Presidente fondamentalmente abbiamo affrontato questo discorso di intraprendere un percorso secondario Poi secondario, così secondario non è perché insomma No, no, non è secondario Poi adesso siete secondi in classifica, giusto? Sì, secondo in classifica, non so ancora qual è il risultato della classifica disciplina a cui noi teniamo particolarmente perché viene reso noto dopo la decima giornata Per noi è evidente che non è questo il risultato più importante Il risultato più importante deriva dai percorsi di crescita dei ragazzi però il fatto che una squadra che è composta di ragazzi che fanno tante altre cose oltre a calcare i campi da calcio dimostra la bontà del progetto perché la vulgata del calcio dilettantistico e delle persone che interpretano questo calcio in maniera vecchia è che i ragazzi che fanno calcio devono lasciare tutto il resto ed è questo poi il motivo che porta tanti ragazzi che poi non riescono ad emergere a trovarsi completamente al di fuori dal circuito lavorativo e professionale e formativo Quindi noi invece vogliamo far diffondere questo modello che per ora è un'eccezione a livello anche nazionale cioè che si può essere buon calciatore ma allo stesso tempo buon studente e buon professionista nel mondo del lavoro Una domanda importante quindi Montespaccato, Ostia, due realtà, prendete in mano due realtà sottratte alla criminalità organizzata Qual è il riscontro che voi avete nel quartiere, nei due quartieri? Allora, ad Ostia io dico sempre non c'è qui un altro dei nostri istruttori ex calciatore che ha una particolare attitudine gastronomica Simone Valentini che anzi saluto la risposta della cittadinanza la vedo dal numero di dolci che vengono confezionati dalle signore e portati ai nostri istruttori e personal trainer per cui ogni giorno Che ovviamente le disincentiveranno perché il mio allenatore mi dice sempre no i dolci no in realtà è una esagerazione però veramente ciambelloni, crostate cose fatte in casa che ovviamente testimoniano i quartieri vi hanno abbracciato esattamente Montespaccato devo dire all'inizio c'è stata un po' più di difficoltà perché poi l'operazione Ampa ha avuto un seguito successivo a giugno di quest'anno e secondo me c'era stata anche una tendenza da parte dei vecchi ambienti a cercare di dissuadere le persone del quartiere a partecipare a questa nuova stagione del Montespaccato ora questo fenomeno è stato ampiamente superato perché noi ve leggiamo nelle partite casalinghe tra i 300 e i 400 partecipanti alla partita di calcio che devo dire in alcuni casi è superiore all'affluenza di squadre più blasonate che magari sono nel girone in serie D o addirittura in serie C quindi è una presenza significativa per il quartiere Va bene, io vi dico che vi verremo a trovare durante una partita così racconteremo il prima e il dopo vi ringrazio di questa visita vi faccio tanti in bocca al lupo e ci hai portato una cosa molto bella e molto gradita che facciamo vedere il gagliardetto che sintetizza il nostro progetto perché mette insieme il logo del Montespaccato e il logo di Talento e Tenacia ovviamente con il sostegno padrocinio anche della Regione Lazio del Tribunale di Roma e che è un po' il nostro biglietto di visita e ci fa piacere che la redazione del Messaggero sia questa è la nuova versione che sia il primo giornale di Roma ad avere il nostro gagliardetto perfetto, grazie mille grazie a voi grazie a voi grazie a voi Grazie a tutti.